Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento qua da Mondoflex insieme a Giovanna. Ciao Giovanna, come stai? Ciao, sto benissimo, buongiorno a te, buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Bene, senti anche oggi tanti consigli, tanti modi per essere sempre utili alle persone, quindi grazie al tuo aiuto, grazie ovviamente a Mondoflex, siamo qua a Treviolo, una bellissima sede tra le altre cose. Senti oggi la primavera ormai è arrivata, però bisogna stare in forma. Aprire dolce dormire, diciamo vecchio proverbio certamente. E oggi quindi parleremo in modo più approfondito di quanto sono le reti, giusto? Perfetto, un ottimo supporto per il materasso, proprio per avere il massimo del comfort. Senti, io però so che ci sono delle reti elettriche particolari, quindi ci devi dare qualche input in più, qualche informazione in più. Ma certamente, allora le reti elettriche io le adoro perché sono il massimo della comodità. È proprio il piacere di trattarsi bene. Allora, il mondo delle reti elettriche è un po' particolare. Una rete elettrica di solito viene vista per la frase che mi sento dire più di frequente. Quando sarò anziano, quando avrò dei problemi di salute, allora acquisterò una rete elettrica. È la cosa sbagliatissima. La rete elettrica è utile per tutti. Ti posso elencare alcuni vantaggi? Migliora sicuramente la circolazione non solo delle gambe, ma anche del corpo. Aiuta la digestione, aiuta chi ha problemi di riflusso gastrico, aiuta... Basta avere un brutto raffreddore, adesso poi è il periodo anche delle allergie, quindi si fa fatica a respirare. Vi sollevate leggermente con la rete e subito dormite meglio, respirate meglio. Oltre al fatto che, forse questa è una cosa che non ci pensate mai, allevia un po' anche il dolore di chi ha problemi di artrite cronica. Tu pensa di svegliarsi alla mattina e avere le giunture rigide, perché durante la notte sono state, chiamiamole, ferme. Quindi si fa anche fatica a scendere dal letto. Se voi avete una rete elettrica, sollevate lo schienale. Pensate che si sollevano completamente come se voi foste seduti in poltrona. Quindi sollevate lo schienale e dovete solo spostare le gambe. Quindi credetemi, una rete elettrica, io dico il massimo della comodità, sia per chi ha problemi di insonnia, ma anche problemi fisici. Poi aggiungo sempre il piacere di trattarsi bene, perché volendo potete anche fare colazione a letto. Senti, ma alzare le gambe serve per migliorare la circolazione, adesso specialmente col caldo che le gambe si gonfiano leggermente. La posizione ideale, poi logicamente tutto un po' soggettivo, io la rete elettrica ce l'ho a casa da tanti anni, sollevo leggermente le gambe quando appunto fa caldo. La posizione migliore sarebbe avere la gamba alzata a pari del cuore. Dà proprio il massimo del sangue fluido, dell'ottima circolazione. Alzare la schiena, te l'ho detto, problemi di respirazione, problemi di digestione, anche questo. Io poi che mangio un pochino tanto la sera, è la soluzione ideale. Senti, ma ci sono anche degli optional, perché l'ho visto un po' in esposizione, poi tra l'altro vedete anche le nostre immagini, ma ci sono anche delle diversità tra una rete e una rete. Sì, allora, diciamo che la maggior parte delle reti elettriche hanno cinque segmenti e quattro snodi. Il primo segmento riguarda la zona spalla, quindi uno può sollevarsi leggermente le spalle, senza essere obbligato a sollevare anche la schiena. Sollevando la schiena, come ti dicevo prima, ha un'alzata volendo anche completa, zona bacino è sempre fissa, non è snodabile, ha i regolatori di rigidità in modo da posizionarli in base al sostegno che si vuole avere nella zona lombare. E poi per quanto riguarda la zona gambe, hanno un doppio segmento proprio per creare l'incavo del ginocchio. Benché i cinque segmenti e i quattro snodi siano le reti più complete, le più ergonomiche, non è detto che siano adatte a tutti. Vi faccio un esempio. Per chi ha problemi di reflusso gastrico, la rete ideale è una rete con quattro segmenti. Sembra inferiore qualitativamente, invece assolutamente no. Perché è la rete ideale? Perché i quattro segmenti non ha lo snodo spalle e quindi ha un'alzata più lineare. Ottima, vi dicevo prima, per problemi di reflusso gastrico perché avendo l'alzata lineare non comprime lo sterno. Dato che il reflusso gastrico non è, chiamiamolo nient'altro, non è un problema serio. Del liquido che rimane un pochino in gola e l'unica soluzione è proprio quella di dormire in posizione eretta. Una rete elettrica con l'alzata lineare vi può far dormire meglio, può ovviare a questo problema. Certo. Senti, io so che è arrivato un nuovo prodotto in Mondoflex, inerente appunto alle reti. È una rete che si chiama Medical Plus? È una rete che si chiama Medical Plus. Sì, è una rete robustissima, bellissima. Parliamo di una rete in multistrato di faccio, quindi un legno molto robusto e allo stesso tempo flessibile. Non si parla di abete o betulla che sono legni un po' più leggeri. È una rete con dispositivo medico, quindi detraibile dalla spesa sanitaria. La particolarità di questa rete sono le sospensioni attive regolabili. Forse noi non pensiamo mai quanto sia importante in un materasso e di conseguenza anche una rete che deve sostenere il materasso, l'accoglienza della spalla. Le sospensioni attive regolabili sono posizionate proprio in base nella zona spalle. Hanno tre sezioni, morbido, medio o rigido. Voi li posizionate proprio dove sentite la spalla. Passatemi il termine, essere proprio accolta dal materasso, perché se la spalla non rimane sospesa, quindi viene accolta dal materasso, mette in posizione corretta sia la spina dorsale ma anche la cervicale. Una cosa importantissima, quando voi entrate nei nostri negozi è la prima cosa che vi spiegano i nostri venditori, l'accoglienza della spalla. Ecco, la Medical Plus, ripeto, è un dispositivo medico, ha queste sospensioni attive regolabili che vi permettono proprio una postura corretta. Voglio aprire un altro capitolo che è importante, dato che il mondo delle reti elettriche è molto ampio, è molto vasto. Allora, assicuratevi che la rete elettrica che acquistate abbia comunque la batteria d'emergenza. La batteria d'emergenza cos'è? È un dispositivo che in caso di mancanza di corrente potete comunque far tornare la rete in posizione sonno, perché se dovesse mancare la corrente che voi siete sollevati, senza la batteria d'emergenza, siete obbligati a passare tutta la notte sollevata. Quindi la batteria d'emergenza è fondamentale. Poi un optional in più che dovrebbe avere una buona rete elettrica è il limitatore di corrente. Il limitatore di corrente permette che il motore non oltrepassi il numero di giri per cui è stato programmato. Praticamente la corrente deve entrare solo l'attimo in cui voi tenete premuto il pulsante per posizionare la rete. come staccate il pulsante e come se la corrente venisse tagliata. Questi sono alcuni accorgimenti che deve avere una buona rete elettrica. Poi, se volete proprio il plus, ci sono le reti elettriche con il motore a scomparsa. Tante volte si dice e vabbè ma vedere il motore sotto il letto è antiestetico oppure magari, che ne so, io sotto il letto ci metto i piumoni dell'inverno che adesso è il momento di toglierli ok. No, le reti col motore a scomparsa è praticamente un motore minuscolo viene inserito nel telaio, nella struttura in modo da non avere niente sotto le reti. È fantastico. È fantastico. Poi si può avere il telecomando a infrarossi per chi non vuole vedere il filo del telecomando. Non sarebbe il mio caso perché lo perderei di sicuro. Però per le persone che sono un po' più ordinate di me è un optional, insomma, molto valido. Devi fare lo scherzo al marito. Se il marito si corica sul materasso, sulla rete, tu lo tiri su. Certo, a distanza. Se lo fai arrabbiare. Se lo fai arrabbiare. A distanza. Non regolo, certo. Senti, hai parlato di dispositivo medico. Cosa vuol dire appunto dispositivo medico in questa ottica? Allora, dispositivo medico è una dichiarazione di conformità. è praticamente la garanzia del prodotto, della sicurezza del prodotto. È una cosa molto seria che a volte viene un po' presa alla leggera. Non è che il dispositivo medico lo si può mettere su tutti i prodotti. Devono rientrare in una certa categoria. C'è una procedura abbastanza complicata per poter ottenere il dispositivo medico. Quindi c'è la presentazione. Innanzitutto deve avere il marchio CE per essere immessa sul mercato. Questo è fondamentale. Ogni prodotto che viene presentato, ripeto, c'è una procedura molto seria da fare, molto complicata, molto costosa. Ogni prodotto deve essere presentato a una commissione sanitaria che rilascia un numero di registrazione. Quindi io presento la rete Medical Plus. Devo spiegare il perché. È una rete che dovrebbe rientrare nel dispositivo medico, cosa che è avvenuta. Per tutti i benefici che il prodotto deve dare. Ogni prodotto ha appunto un numero di registrazione. Questo numero di registrazione deve essere applicato su ogni fattura che noi facciamo verso i clienti. Per questo che dico che è una cosa molto seria. Ogni prodotto ha un fascicolo tecnico che deve essere aggiornato annualmente e deve essere riportato ogni minima variazione che si possa fare. Quindi, ripeto, è un argomento molto molto serio che viene seguito da professionisti. Non è una cosa improvvisata. Vi dà sicuramente dei vantaggi anche economici perché si può detrarre comunque il 19% quando si acquista un prodotto con il dispositivo medico. Ed è, diciamo, sono il dispositivo medico si danno di solito a quei prodotti che hanno proprio delle caratteristiche particolari per avere il massimo comfort nel dormire. Certo. Quindi alla fine della fiera hai parlato di 19% di detrazione. Perché poi ci sono anche le detrazioni, no? Che le persone vogliono sapere, capire. Certo. Perché si parla di 4%, 19%. Ma come si divide? Allora, tutti i prodotti con dispositivo medico possono essere detrati nella, chiamiamolo la denuncia dei redditi, 730 o comunque quello che si fa. Non c'è bisogno della ricetta del medico. Si deve mettere fattura, come ti dicevo prima, col numero della pratica del Ministero della Salute. Se non c'è la marchiatura, c'è col numero della pratica, la fattura non viene accettata. Diverso è invece il recupero dell'IVA al 4%, che è comunque per chi ha purtroppo problemi di invalidità. Per avere la detrazione, per poter acquistare un prodotto con l'IVA al 4%, non è necessario che sia un dispositivo medico. basta avere il verbale di invalidità e la ricetta del medico di base oppure di uno specialista. Se si acquista un prodotto con dispositivo medico e si è in possesso di invalidità, si possono abbinare le due detrazioni. Quindi io acquisto una rete, un materasso, una poltrona anche, una poltrona relax, con l'IVA al 4%, quindi detraggo l'IVA al 22% e aggiungo solo il 4% e l'anno successivo posso detrarre il 19%. Quindi se voi fate quattro conti, vi rendete conto che potete avere degli ottimi prodotti che vi aiutano a stare meglio, spendendo anche veramente poco, avendo la possibilità di abbinare le due detrazioni. Poi io vi dico con tutto con onestà che la Mondoflex, le persone che lavorano dentro, fanno veramente il bene delle persone, perché non è detto che vendano o cercano di vendere il materasso che costa di più. Cercano sempre di consigliare il materasso giusto per voi, che non è detto che sia quello che costa di più. Sicuramente. No, perché io l'ho visto su me stesso e quindi mi sento di dirvelo, perché vedo anche tante persone che vengono e voglio quello che costa di più. No, non è sempre detto che sia quello che costa di più il prodotto. Assolutamente no. La prima cosa che spieghiamo ai nostri venditori è ascoltare il cliente e consigliare proprio in base alle esigenze del cliente. Alcuni basta un materasso base, per altri ci vuole magari un materasso appunto con dispositivo medico un po' più elaborato. Io stessa, per problemi che ho a un'anca, per anni ho dormito su un materasso, non dico la base ma leggermente poco di più, un materasso morbido, perché ho bisogno di stare sul morbido. Non è che mi sono portato a casa quello più costoso, perché non sarebbe stato adatto alle mie esigenze. Quindi è proprio la prima cosa che spieghiamo ai venditori. Dovete ascoltare il cliente, fate parlare al cliente, seguite le sue esigenze. Il nostro scopo è proprio quello di dare ad ogni cliente il materasso giusto, consigliare il materasso giusto. Logicamente non siamo medici, non curiamo niente, però possiamo aiutare a stare meglio. Questo di sicuro. E poi l'esperienza... L'esperienza conta, pensa che sono... Sì, veramente, sì. Da quanto tempo ho detto qua? Stavo dicendo, se tu mi chiedi cosa hai fatto negli ultimi 30 anni, quindi dal 1990, sono 32 anni, non posso far altro che risponderti la materassaia. Quindi diciamo che un pochino di esperienza ce l'ho. Appunto quello che dico. Allora abbiamo qualche domanda da casa. Il signor Simone, ad esempio, chiede se è pericoloso movimentare il piano della rete mentre si è a letto. Ma no, ma no, è proprio questo il bello di una rete con alzata a motore. Allora, ripeto, scegliamo una rete con il limitatore di giri, quindi una rete dove la corrente entra proprio solo nel momento in cui si schiaccia il pulsante per poterla portarla in posizione corretta. Ma lì è proprio la comodità. Voi ve ne state tranquillamente a letto, il telecomando è di fianco, posizionato sul lungarone del letto, dovete solo allungare una mano e vi sollevate, vi abbassate come volete. Cioè, meglio di così, direi che, a differenza magari di una rete con l'alzata manuale, che uno deve scendere dal letto, sollevo due o tre scatti, rientro nel letto. Cioè, a me succede spesso, io sono una che dorme poche ore, anche dovuto all'età comunque, ma dormo benissimo. Quindi a volte mi addormento un po' sollevata, quando riapro gli occhi allungo un braccio, torno in posizione proprio sonno. No, veramente, al massimo della comodità è nessun problema. Ok, abbiamo un'altra domanda. Il signor Giancarlo ci scrive dicendo ho dei problemi di reflusso, il dottore mi ha detto che dovrei dormire leggermente sollevato, vorrei acquistare una rete elettrica, ma io ho un bypass. Posso utilizzarla o ho dei problemi? La può utilizzare benissimo. L'ideale sarebbe una rete col dispositivo medico, quindi una rete col limitatore di corrente, ma con un motore, ci sono dei motori specifici, per chi è il pacemaker o bypass, è una rete, è un motore, un motore occhi, che ha una doppia schermata e sono proprio adatti a chi purtroppo ha queste esigenze. Un motore con la doppia. Dico bene perché c'è comunque la risposta. Bene che c'è la soluzione. Certo, certo. Quindi ripeto, un motore con la doppia schermata, un motore specifico. Ok. Chiudiamo con la signora Teresa che invece chiede ho spesso le gambe gonfie, mi hanno detto che devo tenerle leggermente alzate quando dormo. Potrebbe aiutarmi avere una rete elettrica? Ho provato mettendo un cuscino sotto, ma sono scomoda. Certo. Appunto, una rete elettrica potrebbe aiutarmi? Sicuramente tanto. Allora, mettere il cuscino sotto è un pagliativo sicuramente non comodo perché poi si sposta, cade dal letto, scende dal letto. No. Come vi dicevo prima, tenere le gambe leggermente sollevate vi dà un maggior afflusso di sangue. Quindi per le gambe gonfie che purtroppo non è solo un problema dalle donne incinte. Di solito si diceva che le donne incinte hanno sempre le gambe gonfie. No. È un problema di età, di sovrappeso, un problema di circolazione. Quindi una rete elettrica è un'ottima soluzione. Senti, se uno dovesse provare una rete elettrica poi torna indietro secondo te o no? No, assolutamente. Non ce la fai? No, non ce la fai. Non ce la fai perché, ripeto, è proprio il massimo della comodità e non è da vedere come un prodotto, un articolo per quando si è anziani, per quando si hanno dei problemi seri. È un prodotto adatto a tutti e il piacere è veramente di trattarsi bene. Certo. Noi siamo quasi giunti al termine, anzi, siamo al termine, arriva la Pasqua, magari nell'uovo di Pasqua vi regalate una rete elettrica, fate un salto. Tanto ce ne sono tantissime esposte, quindi poi c'è anche l'ultimo modello arrivato, ma poi ci sono loro, quindi alla fine della fiera, vi ripeto, vi consigliano nel modo giusto, non per farvi spendere il massimo, ma per il prodotto giusto per voi. Sì, perché tra l'altro, dicevo prima, tante agevolazioni fiscali, ma ci sono anche tante agevolazioni di pagamento, quindi proprio con una rata piccola piccola si possono fare un bel regalo nell'uovo di Pasqua. Allora, grazie Giovanna per anche questo appuntamento di questo mese, ci vediamo poi dopo, o il mese prossimo, quando mi dite voi. Grazie a tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto e buona Pasqua a tutti e mi raccomando, un saltino alla mondo, frecce ne vale la pena. Ciao a tutti. Ciao e buona Pasqua a tutti. Ciao a tutti.